Raffa Nacash, country manager del Titan Bet, a celebrare un trionfo. Un milione di euro garantito, ci avete creduto. Conferenza stampa l'Hotel Savoia e Milano in grande stile. Pre-80 anni festeggiati del casino di Campione d'Italia. Al tempo, io venni alla conferenza di Sesti, è una scommessa. Oggi possiamo dire vinta. Se confermo, scommessa vinta, si può tornare a dormire normalmente dopo mesi di ansie varie. No, a dire il vero, oltre alla scommessa vinta, è la conferma di una grande sinergia, secondo me, fra Titan Bet e il casino di Campione e, chiaramente, Andrea Bettelli e gli organizzatori del Lipo. Tutto ha funzionato perfettamente. Abbiamo ricevuto 2.492 giocatori e non sono pochi. Tutto perfetto, nessuno si è lamentato, tranne qualche coda e qualche fila di troppo al parcheggio dei 1C, ma questo era previsto e in qualche modo anche auspicato. Ma questa non è colpa dell'organizzazione, probabilmente ci voleva un piano in più di parcheggio, ma devo dire che in tempi di crisi Lipo rianima, non dico un casino che pur è gestito in maniera impeccabile ed è in un momento, diciamo, positivo considerato il trend del mondo del gaming. C'è da dire però che la gente che è venuta in questo casino per questo torneo, credo che sia stata una cosa splendida per la struttura. Sì, è vero. Veramente grandissima, semplicemente grandissima soddisfazione. Tanti giocatori, chiaramente un premio garantito importante, un buy-in tutto sommato abbordabile, ma mettendo da parte tutti i discorsi di soldi o bilanciamenti fra quanto preso e quanto dato, io credo si sia consumata quasi, si stia consumando in questi giorni semplicemente una grande festa di poker e siamo tutti davvero molto soddisfatti. Bisogna guardare al futuro, perché a questo punto uno fa due riflessioni. So che è una domanda tipica del giornalista, dice, e adesso che cosa facciamo? Perché dice, ho fatto un milione di euro garantito, un successo clamoroso, però prima comunque era un torneo da 1100 iscritti, quindi record italiano. Così, da manager, che ti viene in mente? Guarda, prima la domanda delle domande era sul Team Pro. Questa l'abbiamo archiviata perché abbiamo lanciato anche il Team Pro sulla domanda delle domande e cosa fare all'IPO 11. A me piace l'idea, così non abbiamo ancora davvero discusso su questo, che ci sia un evento annuale. L'IPO 10 è anche la chiusura del primo anno di collaborazione fra Titan Betty, il Casinò e Ipo. Quindi è stata una chiusura del cerchio giusta, ben fatta e caduta all'uopo. Quindi mi piacerebbe l'idea di continuare, tipo mantenere un evento annuale che sia fuori dai generis, oltre alla norma. Qui abbiamo avuto il milione garantito, magari ce ne sarà un altro, magari altri due, questo non lo so. Sul l'IPO 11 francamente ancora non lo so. Ma conto di iniziare a pensarci a una settimana dal mio ritorno. Comunque, guarda, la cosa bella che possiamo dire è questa. L'indicazione che arriva da Raffaele Nakash, country manager di Titan, è chiarissima. Noi vogliamo esserci anche tra un anno, che è il punto fondamentale con Titan. No, la differenza è che noi ci saremo fra un anno. Quindi tra un anno ci saremo. Ci saremo con un evento top, poi vedremo in quale dinamica, e ovviamente ci saremo tra un anno, ma ci saremo anche per il prossimo IPO. Vedremo sotto quale forma, ma adesso ci si dorme sopra. Naturalmente. Ti faccio anche una domanda. E tu, ci sarai al prossimo IPO? Magari. Io qui mi sento a casa. Perché non esserci? Alla prossima!